Osvaldo secondo te, secondo te, Alfredo ce la può fare? Mai pensi proprio che allora, no non ce la potrei, ma non ce la potrei fare, ma non ce la può fare. Trimorzio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Vi prendo in castagna! Vi prendiamo in castagna! Allora, dove andiamo? Allora, appuntamento Sierino. Percorreremo la strada statale per il Monte Terminio fino a raggiungere Montella. A Montella visiteremo un'azienda castanicola, dopodiché raggiungeremo il Goleto. Oggetto di una grande, mi permetto di aggiungere, oggetto di una perfettissima opera di destale. Poi il viaggio procederà per Lusco. Faremo una piccola sosta, piccola sosta culinaria, piccola, il piccolo adinello, intendiamoci. E dopo questa sosta, ci avvieremo verso Acerno, dove lì ci sarà una sorpresa che ve la sveglieremo dopo. Allora, diciamo, proveremo delle caldarroste con il vino. Osvaldo, questo era un patto che doveva essere mantenuto segreto. Però, diciamo, chiaramente il vino, il segreto cinese si chiama. Va bene così. Ok, poi una volta degustate queste castagne, arriviamo a Battipaglia. Se ci riusciamo, arriviamo a Battipaglia. Saluti, baci, abbracci, caro, ciao caro. Sosta caffè. Sosta caffè e poi alla prossima motogina. Trimorzio! Dimmi. Allora, devi spiegare, innanzitutto, come si chiama questo posto? Questo posto si chiama Abbazia del Goleto. Abbazia del Goleto, si trova nel comune di? Comune di Lioni. Comune di Lioni, in provincia di Avellino. Trimorzio! Siamo a Nusco. Benissimo. Ridente cittadina dell'Irpinia Alta. L'Irpinia Alta, benissimo. Allora, quindi, in gennaio ti fa la festa di Sant'Antonio Abbate, con i fuochi alti, i fuochi in mezzo alla strada. E paghi solo l'acqua, il vino te lo danno gratis. Ah sì? Sì. Secondo te, secondo te, ce la possiamo fare? Alfredo, ce la puoi fare? Mai pensi proprio che allora... No, non ce la potrai mai fare. Da diesel a benzina, stai coperto stavolta, quindi vieni anche tu. Achille, se tu sei magro e vieni in mezzo ai robusti, ti troverai sicuramente bene. Va bene. Possicuramente non cadere, hai già dato. Va bene. Vittorio, ti faremo uno sconto se verrai. Non credo che tu sia in grado con quel mezzo arancione, ma provaci. Se ce la fai a starci dietro, ti accettiamo pure a te. Siamo buoni. Allora, Tony Draghi, io non ti conosco, non so chi sei, ma dal cognome che c'hai, o dal suo franome, devi essere ognuno. Vieni, ti aspettiamo. Riccola Guerrato, non ti conosco neanche te, ma vieni che ci conosciamo. Qua si mangia, si bela e ci si va, e si guida. Mimmo Sorrentino, tu hai sbagliato a prestare il mezzo al dottore. Voglio vederlo guidato da uno che lo sa guidare. Ho visto che il dottore leva mano. Joshua, la Waller a te l'hanno tocca. Ma una scusa per camminare con un mezzo non ce l'hai più. Andiamo, e cammina stavolta. Simone, Simone, incertezza, non essere incerto. Prendi il mezzo ogni tanto e vieni con noi, le castagne ti aspetta. Trimorzio! Quando la facciamo questa maconcina? Domenica 11 ottobre. Vabbè. Poi gli orari, l'orario di adunata, qual è? Alle ore 9.30, Serino. 9.30, Serino. Chi c'è, c'è, chi non c'è, lo lasciamo a piedi. Trimorzio!